Viso raggiante con 5 maschere facciali Quanti soldi spendiamo in prodotti per il viso? Lindustria ci dice che se si vogliamo un viso raggiante, da favola, è necessario acquistare maschere, esfolianti, tonici, creme speciali. Ma perché non provare qualcosa di naturale? L'obiettivo è rimuovere le impurità presenti in superficie, rigenerare le cellule e mantenere elastica la pelle. Tuttavia, non si limita tutto alle maschere facciali. Bisogna avere e rispettare una routine per mantenerlo sano. . 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 Schiacciate la banana con una forchetta. Quindi aggiungete il cucchiaio di miele mescolate per formare una maschera. Con le punte delle dita, applicate la miscela sul viso tramite movimenti circolari. Lasciate agire per 25 minuti. Risciacquare con acqua tiepida e, infine, applicate una crema idratante. Avocado. L'avocado è un frutto che contiene elevate quantità di grassi sani. Contiene anche acido folico e vitamine, ingredienti essenziali per il trattamento del viso, soprattutto se vogliamo pulire, idratare e ripristinare la luminosità. Insomma, si tratta di un prodotto ideale per un viso raggiante. Ingredienti. 1 avocado succo di un limone. Preparazione. Mettete l'avocado in un contenitore e schiacciatelo in modo uniforme. Quindi aggiungete il succo di limone e mescolate per 20 secondi. Posizionare la maschera sul viso e insistete soprattutto nelle aree quali naso, fronte e mento. Lasciate agire per 15 minuti. Infine, risciacquate con acqua fredda o calda. Bicarbonato di sodio e acqua. Preparazione. Ogni giorno esponiamo il volto a una serie infinita di batteri che causano danni quali acne, macchie e secchezza. Grazie alle sue proprietà antisettiche e antinfiammatorie, la soluzione di bicarbonato regola il grasso prodotto dall'accumulo di impurità. Ingredienti. 2 cucchiai di bicarbonato di sodio, 20 g, 2 cucchiai di acqua minerale, 20 ml. Preparazione. Mettete il bicarbonato in un recipiente e aggiungete l'acqua minerale. Mescolate con un cucchiaio. Stendere il composto su tutto il viso, attenzione a non farlo andare negli occhi. Sentirete un lieve prurito. Se invece è più una sensazione di bruciore, procedete a rimuovere rapidamente. Lasciate agire per 20 minuti. Infine rimuovete con acqua. Il vantaggio principale delle maschere è quello di pulire il viso, ma è anche importante applicare un tonico per chiudere i pori dopo il trattamento. Tonico con aceto di mele e acqua. L'aceto di mele contiene alfa idrossi acidi, motivo per il quale contribuisce a rinfrescare, equilibrare il pH e detergere la pelle. Inoltre rivitalizza i tessuti. Ingredienti. 1 cucchiaio di aceto di mele, 10 ml, 1 bicchiere di acqua, 200 ml. Contenitore con applicatore spray. Preparazione. Mettete l'acqua e l'aceto nel contenitore spray e mescolate bene. Dopo la maschera, spruzzate il tonico viso. Consigli per avere un viso raggiante. È molto importante rimuovere il trucco senza strofinare. Lavate il viso con sapone neutro per rimuovere eventuali residui. Effettuate massaggi circolari con la punta delle dita per stimolare la circolazione. Non effettuate pressioni nella zona degli occhi, è sufficiente dare dei colpetti delicati per non corrugare la pelle. Usate crema idratante sul viso e sul collo. Ricordate che il volto è la vostra lettera di presentazione per gli altri. Ricordate che il volto è la vostra lettera di presentazione per gli altri.